Allora, oggi abbiamo fatto questa piccola modifica a questo amico nostro, va. Che ha fatto? Ha scurriciato Daniele, come al solito, no? Chi è? Stavo te qua? Che cazzo? Ah, vabbè, meno male. Lui fa le puzzette, lui. Chi? Che ha? Mi fa le puzzette? E' un uomo seduto lì che ride. E' come il padre. Allora, che abbiamo fatto oggi? Abbiamo fatto un lavoretto un po'... carino, io mi sono stato al galaterale. Mi sono stato al galaterale. Ci ha fatto un po' tripolà. Quante volte è la staffetta? 50 centesimi? 2.500 euro. Sì, buonanotte, 50 centesimi. Riprendimi qua. Eh. Tra due giorni è stato a pomili questo motorino. Questo cazzo. Che ha fatto? Stratto con tanta... Stratto perché è troppo elaborato. Senti, qua che ci ha messo poi? Che 70 hai? Troppo roba, MHR. Dai, che 70 hai? MHR, ma un mito artigianale, un sacco di roba. Ma i mortacci, questo cazzo. Questo cazzo di Carlo. Ah, è molto carino, eh? Ma questa, come ti vedete nei guardi, costa al galaterale. Subito, 60 euro di murta. Una ventina di punti sulla patente. Oh, questo filtro mi ricorda qualcosa. Questo è il filtro che ha la Kevin. Allora, questo è il filtro che ha il galaterale. Sì, su, su, mi chiedo. Stanno scritto qua a te. Va bene, va. Va bene, stavo scherzando prima, eh. Bella frizzi. Salutiamo a tutti, saluta qua. Ciao. Vai, che? Saluta Brian. Che stiamo... Non devi cattare il mezzo, tu.